Si trovava assieme ad un'amica la 15enne soccorsa ieri mattina attorno alle 12 dai sanitari del 118 in coma etilico. La ragazzina era stata trovata priva di sensi vicino alle scale mobili nel centro storico di Arezzo. E sarebbe stata proprio l'amica ad allertare i sanitari scappando però prima del loro arrivo forse per paura di finire nei guai. Dunque una bravata tra due giovanissime ma che avrebbe potuto avere risultati ben più gravi. Qualsia l'abuso di alcol fino ad arrivare ai limiti del coma etilico può comportare problemi molto gravi per la salute. Quindi la depressione dei centri respiratori e di conseguenza l'arresto respiratorio che come conseguenza se non c'è un precoce intervento può arrivare fino all'esito estremo di un arresto cardiorespiratorio. La polizia locale di Arezzo ha dunque individuato ed ascoltato la giovane che si trovava assieme alla 15enne al momento del consumo di superalcolici. Una bottiglia di grappa è stata infatti trovata dagli agenti poco lontano dalla ragazzina. L'adolescente avrebbe confermato dunque che si è trattato di una bravata, che la bottiglia sarebbe stata portata da casa. Un racconto confermato anche dai riscontri delle telecamere. Nessun adulto dunque sembrerebbe coinvolto nella vicenda almeno stando ai primi riscontri. Intanto la quindicenne che si trovava ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo sta meglio e presto tornerà a casa.